Massimiliano, imperatore dei Romani, re di Germania, presenta suo nipote il principe Ferdinando d'Asburgo. Principe Ferdinando, vediamo il benvenuto. Santità, chiedo la mano di Lucrezia Borgia come mia sposa. Non ci portate prima i saluti di vostro zio. Santità, chiedo la mano di Lucrezia Borgia come mia sposa. E cosa fareste con lei una volta sposata, la giovane principe? Infilerei subito il mio asburgico penne dentro di lei per generare degli imperatori. Vediamo che la vostra fronte è pulita. E noi non possiamo immaginare una Borgia promessa ad un principe che non onori l'inizio della quaresima. L'onorerò senz'altro, ma prima di tutto io voglio... Prima di tutto, rendete onore a Dio, principe. Ne odio Roma!